Un bel proverbio tibetano dice Cercare la felicità fuori di noi è come aspettare il sorgere del sole in una grotta rivolta a nord. Cercare la felicità fuori di noi è praticamente impossibile, è come aspettare il sorgere del sole in una grotta rivolta a nord. Possiamo aspettare finché vogliamo ma il sole non lo vedremo sorgere mai. Questo ci invita a rinvoccarci le maniche e a cominciare a lavorare su noi stessi perché se vogliamo veramente renderci felici e continuare ad esserlo dobbiamo cambiare il nostro punto di vista sulle cose e riuscire a intraprendere un percorso di consapevolezza e di felicità interiore, di conoscenza, di autoconoscenza che ci porterà veramente ad essere sereni e felici. Cercare la felicità fuori di noi è come aspettare il sorgere del sole in una grotta rivolta a nord. Bellissimo proverbio tibetano. Ciao!